Il ferimento di un uomo a Crotone il 31 agosto 2022 causato da un colpo di pistola è stato attribuito a un litigio per motivi banali. La vittima è stata colpita alla nuca mentre si trovava alla guida di un furgone ed è stata successivamente ricoverata con prognosi riservata nell'ospedale di Crotone. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Petili a Policastro hanno proceduto all'arresto di due individui, un 38enne e un 51enne, in relazione a questo tentato omicidio. L'arresto è avvenuto in ottemperanza a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica. Le due persone fermate oggi dai carabinieri sono accusate di tentato omicidio e di porto illegale di arma e munizioni. Il diverbio per futili motivi è stato il presunto movente dietro questo grave episodio che ha portato all'arresto dei due sospettati.